La sentenza della Corte d'Assise, giudicato responsabile e amnistiavo. Credo che abbia lanciato un boomerang. La Moratti è una bugiarda? In Milano non merita un sindaco così. Inizia l'elezione e questa sfida diamo il via, chissà chi salirà se la Moratti è o Pisa via. Vedremo se Giuliano è un garantuomo o chi che sia, oppure se Letizia ha detto solo una bugia. Eeeh, eeeh, in questo mondo di ladri c'è ancora un gruppo di amici. Grazie a tutti.